Il Ministero dell'Ambiente ha ricevuto nelle scorse ore la lettera firmata dal Presidente dell'ILVA Bruno Ferrante e dal Direttore dello Stabilimento Adolfo Buffo con cui l'azienda da riscontro all'autorizzazione integrata ambientale per l'acciaieria di Taranto. Il documento è all'esame degli uffici del Ministero. Il Ministero ricorda che il rispetto delle prescrizioni dell'AIA peraltro immediatamente operative è un obbligo di legge il cui mandato, rispetto è sanzionabile. L'azienda ha inviato la lettera entro il termine di 10 giorni come prescritto. Nei giorni scorsi l'ILVA si era detta pronta a ottemperare a tutte le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e di lavorare ad un piano industriale con l'obiettivo di verificare la sostenibilità finanziaria degli investimenti ma aveva osservato che per attuare questo piano presupposto imprescindibile era la piena disponibilità degli impianti oggi sotto sequestro. Intanto procede lo sciopero ad oltranza al MOF, hanno spezzato il futuro a Claudio, sono anche loro responsabili e siamo disposti a interrompere lo sciopero solo con le dovute garanzie. Lo hanno detto i lavoratori ILVA del reparto Movimento Ferroviario davanti alla portineria A dello stabilimento. Sono un centinaio i lavoratori che scioperano dal 30 ottobre scorso, giorno dell'incidente in cui è morto il 29enne Claudio Marsella schiacciato da un locomotore durante le operazioni di aggancio di un carro ferroviario. I dipendenti del reparto MOF hanno preparato un documento attraverso il quale pongono all'azienda condizioni per riprendere a lavorare la revoca dell'accordo del novembre del 2010 che prevedeva la riorganizzazione del lavoro e la riduzione del personale, la modifica del piano di emergenza, la fermata obbligatoria delle macchine in condizioni di scarsa visibilità e ancora l'armamento minimo di tutti i locomotori a due unità in presenza di radiocomando e a tre in assenza. La mobilitazione, precisano i manifestanti, proseguirà almeno fino a domenica 11 in mancanza di segnali positivi da parte dell'azienda e delle autorità competenti nell'ambito della lunga vertenza in corso. Gli operai che hanno indetto lo sciopero dopo l'incidente in cui ha perso la vita Marsella rivolgono un appello a tutti i cittadini, alle associazioni e a tutte le realtà del territorio a portare la loro solidarietà al presidio in corso e a partecipare alla manifestazione che si svolgerà a Taranto sabato 10 novembre con un corteo che partirà alle 14.30 dall'ingresso dell'arsenale di via Magnaghi.